Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Ilaria e questo è un nuovo video true crime. Se siete interessati a questo genere di video vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche e se vi va potete anche seguirmi su Instagram o sugli altri miei social, i link li trovate qui sotto nella descrizione. Vi ricordo inoltre che sulla home page del canale potete trovare la nuova suddivisione in playlist tematiche che ho creato giusto qualche giorno fa, raggruppando tutti i miei video suddivisi in categorie specifiche. Detto questo iniziamo! Oggi vi parlerò di una vicenda che ha avuto luogo nel 2000 a Sparefish, una città situata nella contea di Lawrence, nello stato del sud Dakota e come sempre partiamo dal protagonista della nostra storia, ovvero Chester Allan Pogue, un ragazzo di soli 20 anni. Chester nasce il 4 luglio del 1980 a Northern County, è il figlio di Dottie e David Pogue e ha una sorella minore di nome Samantha, più giovane di lui di due anni. I genitori scelgono il nome Chester ispirandosi al personaggio di un film western. Viene descritto come un ragazzo dolce e gentile e trascorre la sua infanzia in una fattoria situata a Norton, dove i suoi genitori lavorano come contadini, coltivando grano e miglio e gestendo molti bovini e maiali. Poiché la loro fattoria è piuttosto isolata, Chester e sua sorella si trovano a dover passare la maggior parte del loro tempo a casa, per loro quindi è molto difficile socializzare con amici e coetanei, proprio perché non riescono ad avere appunto una grande vita sociale. Il padre di Chester, David, soffre di asma e a causa dei suoi problemi di salute nel 1994 tutta la famiglia si trasferisce a Rapid City, una città e capoluogo della contea di Pennington, nello stato del Dakota del Sud. Chester frequenta la Central High School e gioca a basket e a wrestling, ma siccome è un ragazzo molto timido, è uno di quei ragazzi che viene scelto sempre per ultimo. Questa cosa capitava anche a me quando andavo a scuola, ero sempre scelta per ultima. Comunque, Dottie e David sono sposati da 22 anni, ma il loro matrimonio è tutt'altro che felice. Dottie, infatti, vuole lasciare David, parla spesso con lui di quanto sia infelice, ma ogni volta che discutono della loro situazione, del fatto che forse sarebbe meglio separarsi, lui risponde che non accetterebbe mai la fine del matrimonio e che quindi, nel caso in cui Dottie avesse preso la decisione di lasciarlo, lui si sarebbe tolto la vita. Comunque, nonostante questa minaccia, nel 1996 Dottie prende la difficile decisione di chiedere il divorzio. Purtroppo David non accoglie affatto bene questa notizia e solo quattro giorni dopo, purtroppo decide di togliersi la vita. Ovviamente tutta la famiglia rimane devastata da questo lutto, ma Chester, che è un ragazzo davvero sensibile, rimane completamente sconvolto dalla perdita del suo papà. Quindi, dopo la morte del padre, la famiglia torna di nuovo a Norton, soprattutto per essere vicini ai genitori di Dottie, nonché ai nonni di Chester e Samantha. A questo punto Chester frequenta il liceo e lo fa molto bene, nel senso che ottiene sempre ottimi voti, è molto bravo in matematica, tanto che dà anche delle lezioni di ripetizione a sua sorella e inizia anche a suonare la batteria. Partecipa a molte attività scolastiche sportive, ma purtroppo anche qui viene preso di mira dai suoi coetanei. Infatti diventa una vera e propria vittima di bullismo, perché i suoi compagni di classe sono molto crudeli con lui, in realtà non solo con lui, se la prendono anche con Samantha. Li prendono in giro perché il loro papà si è tolto la vita. In pratica li deridono per via di una disgrazia. Vabbè, a volte i ragazzi possono essere davvero crudeli. Comunque, una volta preso il diploma, Chester frequenta il college. Essendo appassionato di informatica e di computer, decide di studiare tecnologia delle comunicazioni e lo fa alla Northwest Kansas Technical School. Nel frattempo Dotti e Samantha si trasferiscono a Spurfish, una città nel sud Dakota. Successivamente poi li raggiungerà anche Chester. Il ragazzo infatti prende una pausa temporanea dai suoi studi e si trasferisce quindi da sua mamma e sua sorella. Oltre che essere molto bravo a scuola, Chester è un grande appassionato di videogiochi e spesso si trova a giocare insieme a qualche amico, insomma, qualche... i pochi amici che ha. Ma arriviamo al 10 marzo del 2000. Quel giorno Dotti e Samantha decidono di partire per una piccola vacanza. Sono stanche del freddo, quindi decidono di passare un po' di tempo nel clima caldo della Florida. Dovete sapere che l'inverno, o perlomeno quell'inverno, è molto freddo in sud Dakota e quindi mamma e figlia partono per godersi una bella vacanza sotto il sole. Mentre Chester decide di rimanere a casa, anche perché vuole trascorrere un po' di tempo da solo. Comunque a 20 anni vuole passare un po' di tempo da solo, facendo le sue cose, dedicandosi alle sue attività preferite, come ad esempio giocare ai videogiochi. Ma Chester ha anche un'altra passione, restaurare mobili. Sì, lo so che non è un'attività molto simile a giocare ai videogiochi, ma comunque questa passione, quindi quella del restauro di mobili, gli è stata tramandata dal suo papà David, che faceva proprio il falegname. Quindi decide di rimanere a casa per fare questa piccola esperienza da solo. Circa una settimana dopo, dalla loro partenza, Dotti e Samantha tornano a Sparefish, ma quando arrivano a casa, la prima cosa che notano è che l'auto di Chester non c'è. Solitamente il ragazzo la parcheggia proprio davanti al vialetto di casa, ma stranamente non è lì. Quando Samantha e Dotti entrano all'interno della casa, trovano un grande caos. Tutto è in disordine, la casa è stata saccheggiata, inoltre mancano diversi oggetti di valore, ma la cosa più preoccupante è che Chester non c'è, non c'è alcun segno del ragazzo. Ovviamente Dotti si dirige subito dalla polizia e denuncia la scomparsa di suo figlio e da quel momento in avanti iniziano le ricerche. Chester viene cercato dappertutto, ma purtroppo senza risultato. Trascorrono alcune settimane e Dotti e Samantha sono terrorizzate e disperate. Dopo sei settimane, Dotti riceve una chiamata da un agente di polizia. Le comunica di aver trovato l'auto di Chester, abbandonata a più di mille miglia di distanza in Texas. E proprio durante il viaggio per ritirare l'auto di suo figlio, la donna riceve una seconda chiamata, una telefonata che nessun genitore dovrebbe mai ricevere. Un agente le comunica che purtroppo Chester è stato trovato morto. Dal momento che Dotti è fuori città, Samantha deve chiamare parenti e le persone vicine per informarli della tragica notizia. Il 22 aprile del 2000, il corpo di Chester viene trovato all'interno di un torrente poco profondo. Al momento del ritrovamento, il ragazzo indossa solo una t-shirt, dei calzini e delle scarpe. Il corpo viene esaminato dal patologo Forense, che fino a quel momento non aveva mai visto nulla di simile. Ogni centimetro del suo corpo è coperto da lividi e ferite. Le sue orecchie sono state completamente amputate. Chester ha subito diverse coltellate, inclusa una che gli ha reciso completamente la vena giugolare. Ha anche subito una coltellata nel cranio, che è entrata addirittura dentro il cervello. Inoltre gli manca una grande parte del cuoio capelluto. Sul cranio, inoltre, viene trovata una grande frattura. Il medico legale dichiara che la morte di questo ragazzo è avvenuta a causa della combinazione di ferite da taglio e trauma da corpo contundente. Il corpo di Chester è ridotto talmente male che gli agenti sconsigliano dotti di salutarlo per l'ultima volta, quindi di guardarlo. Il riconoscimento del corpo viene eseguito dai genitori della donna, dai nonni di Chester. Tra l'altro il nonno di Chester ha fatto il pompiere per anni e si è imbattuto in scene di questo tipo, ma comunque come possiamo immaginare rimane davvero sconvolto. Chester viene cremato e sepolto nella sua città natale. Ora è abbastanza chiaro che ciò che è successo a questo ragazzo non può trattarsi di un incidente. Ovviamente si tratta di un brutale omicidio, quindi la polizia inizia le indagini. Ma è davvero difficile per gli agenti scoprire chi possa aver commesso un atto così crudele, soprattutto perché non vengono trovati molti indizi o qualcosa di rilevante. Ma la svolta comunque avviene e avviene quando gli agenti ricevono una telefonata inaspettata. Infatti il 25 aprile del 2000, quindi solo tre giorni dopo il ritrovamento del corpo di Chester, un ragazzo di 25 anni di nome Danny Burkhart chiama la stazione di polizia dicendo di avere delle informazioni importanti. Danny infatti afferma che un suo amico Darrell Hodley, un ragazzo di 20 anni, gli ha confessato di essere coinvolto nella morte di Chester. A questo punto gli agenti chiedono a Danny di collaborare con loro. Devono trovare quante più informazioni possibili, quante più prove possibili e quindi chiedono a Danny di provare a far parlare Darrell. Quindi gli mettono addosso un microfono, ovviamente lo nascondono, e organizzano un incontro tra di loro in un hotel. Quando Darrell vede Danny inizia a parlare e racconta cosa sia successo davvero a Chester e racconta anche del coinvolgimento di altre due persone. Ovviamente una volta sentita questa confessione Darrell viene subito arrestato e una volta interrogato racconta di essere in parte responsabile dell'omicidio e aggiunge anche che altre due persone, due suoi amici, sono coinvolti. Gli altri due soggetti sono Elijah Page di 18 anni e Briley Piper di 20 anni. La polizia emette subito un mandato d'arresto per loro due, ma si scopre subito che i ragazzi sono fuggiti. Elijah è scappato in Texas e Briley invece in Alaska. Comunque tutti e due vengono trovati e vengono subito arrestati con l'accusa di omicidio. Tutti e tre confessano il loro coinvolgimento, ma prima di raccontarvi cosa è successo quella sera a Chester, è necessario parlare degli autori del crimine, così per farci un'idea. Elijah Page nasce il primo dicembre del 1981 a Titusville in Florida. All'età di due anni viene venduto da sua madre a un pedofilo come forma di pagamento per un debito, ma non solo, una volta suo padre lo usa come scudo umano verso uno spacciatore arrabbiato. Questa cosa sembra quasi una moda comunque. Durante la sua infanzia i suoi genitori non hanno denaro sufficiente per permettersi un posto dove stare e così si trova a vivere in edifici abbandonati, spesso senza acqua corrente e servizi igienici. Da adolescente fa dentro e fuori dagli istituti minorili e inizia a mostrare tratti sociopatici come aggressività e mancanza di rimorso. Briley Piper nasce il 20 marzo del 1980 ad Anchorage in Alaska. Da bambino viene picchiato molto spesso da sua madre, a volte anche con una cintura. Addirittura pare che questa donna inventasse delle ragioni inesistenti per punire sia lui che i suoi fratelli. Alle medie viene sorpreso a fumare erba, il suo rendimento scolastico è insufficiente e gli viene diagnosticato anche il disturbo da deficit di attenzione. Gli agenti cercano più volte di parlare con sua madre e di collaborare con lei, ma la donna si rifiuta di seguire la maggior parte dei loro consigli. Crede che i suoi metodi siano più efficaci. A giudicare da come sono andate le cose evidentemente i suoi metodi non erano poi così efficaci. A 13 anni viene arrestato per aver aggredito una donna e successivamente per aver aggredito un compagno di classe minacciandolo con un coltello. Darrell nasce il 5 novembre del 1979 a Laramie, nel Wyoming. Anche lui subisce abusi fin da piccolo, da parte di alcuni pedofili amici di sua madre, e subisce abusi anche da parte di sua madre stessa e al momento dell'omicidio ha una figlia di un anno. Ora dobbiamo tornare indietro al 12 marzo del 2000. Quella sera Darrell, Briley ed Elijah, che in quel momento abitano insieme, si dirigono a casa di Chester. Chester conosce questi tre ragazzi da circa un mese e tutti e quattro hanno una grande passione per i videogiochi. Dunque Chester, essendo tra l'altro a casa da solo, decide di invitarli a casa sua per fare una partita. Ora quando i tre entrano all'interno della casa, siccome ormai abbiamo già capito che sono dei delinquenti, si rendono conto che ci sono moltissime cose di valore. Infatti Chester viene da una famiglia benestante, quindi la sua casa è praticamente piena di oggetti costosi. Dunque i suoi amici decidono di derubarlo. Senza farsi vedere dal ragazzo, alcuni di loro rubano degli oggetti. Dopodiché lo convincono ad uscire. Tutti e quattro salgono sull'auto di Chester e si dirigono a casa dove vivono i tre. Quando entrano in casa, Elijah estrae una pistola, una pistola a calibro 22. Chester si rende subito conto che quella pistola appartiene alla sua famiglia. Elijah infatti l'ha appena rubata da casa sua. A questo punto Elijah ordina Chester di sdraiarsi sul pavimento e Briley inizia a prenderlo a calci e non si ferma fino a quando il ragazzo non perde i sensi. Ora Chester è privo di sensi e viene legato ad una sedia. Quando si riprende, supplica i tre ragazzi di lasciarlo andare e loro per tutta risposta prendono alcune pastiglie, non ho capito bene di cosa, le tritano e le mischiano insieme a della birra e dell'acido e costringono il povero Chester a berlo. I tre ragazzi sperano di aver creato un cocktail mortale perché alla fine la loro intenzione è quella di ucciderlo, perché non vogliono lasciare testimoni per il loro furto. Chester si contorce dal dolore e a un certo punto chiede loro per quale motivo lo stivano facendo, perché ce l'hanno tanto con lui, ma loro senza alcuna pietà lo colpiscono di nuovo ordinandogli di stare zitto. Il cocktail però non ha funzionato perché Chester è ancora vivo, quindi i tre discutono sul da farsi, cioè discutono su come ucciderlo e lo fanno proprio davanti a lui. A questo punto Chester viene trascinato in auto e tutti insieme si dirigono a Higgin Gulch, un'area boschiva all'interno delle montagne Black Hills, che dista circa 6 chilometri da Sparefish. Una volta arrivati Chester viene praticamente denudato, indossa appunto solo la t-shirt, i calzini e le scarpe. I tre ragazzi lo obbligano a camminare nel freddo gelido e nella neve. Lo gettono a terra e lo colpiscono più volte su tutto il corpo. A un certo punto lo prendono a calci sulla testa. Questo è un dettaglio veramente brutto da sentire, però praticamente c'è scritto nelle fonti, quindi io lo dico. Praticamente usano la sua testa come se fosse un pallone da calcio e nel frattempo ridono, si divertono. Cioè in pratica questi tre balordi, per non dire altro, lo stanno massacrando e ridono, ridono a crepapelle. Comunque Chester è ancora vivo, ma è sfinito dal dolore. Tenta di alzarsi e prova anche a scappare, ma fa pochissimi passi e viene subito preso e trascinato vicino al torrente. A questo punto Chester, che è ancora vivo, fa una richiesta ai suoi guzzini, qualcosa che personalmente mi ha colpito molto. Il ragazzo ormai è consapevole che da lì a breve sarebbe morto, quindi chiede loro di portarlo in auto. Dice loro che avrebbe preferito morire di stanguato al caldo che congelato al freddo. Briley acconsente a questa richiesta, quindi Chester si trascina letteralmente verso l'auto, mentre gli altri tre lo osservano e ovviamente ridono, perché loro non avrebbero mai consentito questa sua richiesta, lo hanno fatto solo per schernirlo. Quindi lo riprendono, lo trascinano vicino al torrente e cercano di annegarlo, ma non ci riescono perché le rocce vicino sono troppo scivolose e non riescono a tenersi in equilibrio. Quindi Elijah prende un coltellino tascabile e lo pugnala la gola. Dopodiché passa il coltellino a Briley che lo pugnala la testa. Inoltre anche Darrell lo pugnala, lo colpisce dritto all'orecchio. Comunque Chester è ancora vivo. A questo punto il ragazzo invece di implorare per la sua vita implora per la sua morte. Quindi Darrell e Elijah lo colpiscono con delle pietre grosse come una palla da bullying e dopo tre ore di incessanti torture Chester perde la vita. Dopo averlo ucciso i tre ragazzi salgono sull'auto e tornano a casa del ragazzo. Rubano un impianto stereo, una collezione di monete, la playstation e molti altri oggetti di valore. Poi si reccano a casa della sorella di Briley che vive nel Missuri. Una volta arrivati lì la donna si rifiuta di accoglierli a casa sua. Nelle fonti non specificano se loro hanno confessato quello che hanno appena commesso oppure no. Comunque questa donna non li vuole a casa sua. Quindi i tre non hanno altra scelta che tornare a Sparefish. Non prima però di aver prelevato dei soldi dal banco mater di Chester. Dopo aver venduto alcuni degli oggetti rubati i tre decidono che le loro strade devono separarsi lì. Briley torna in Alaska, Elijah va in Texas con l'auto di Chester ed Harrell rimane a Sparefish. Come ho detto prima verranno poi tutti catturati. Una volta arrestati tutti e tre vengono accusati di omicidio di primo grado, aggravato da rapimento e furto con scasso. So che sono ripetitiva e l'ho detto varie volte in questi casi, ma come accade quasi sempre tutti cercano di minimizzare il proprio ruolo nell'omicidio e tutti e tre si puntano il dito l'uno contro l'altro. Comunque in ogni caso tutti e tre vengono ritenuti colpevoli della morte di Chester. Darrell si dichiara non colpevole e durante il processo si mostra dispiaciuto e affranto e pentito per ciò che ha fatto. Almeno questo è quello che dà a vedere. La giuria inizialmente non riesce a decidere quale sia la pena più giusta, ma alla fine il primo giugno del 2001 il ragazzo viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. La giuria ha tenuto il conto della sua infanzia violenta e del suo ruolo nell'omicidio di Chester. Infatti nel corso del processo è venuto fuori che il ragazzo, quindi Darrell, quella sera è stato costretto a collaborare con gli altri due perché avevano minacciato di fare del male sia a lui che alla sua famiglia. Quindi inizialmente si parlava di pena di morte ma poi gli è stata commutata in ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Elijah però non ha la stessa sorte. Infatti il 16 febbraio del 2001 viene condannato a morte. Subito dopo la condanna la difesa tenta un appello, ma succede qualcosa a mio parere di molto strano, direi anche quasi assurdo. Nell'agosto del 2006 Elijah comunica al suo avvocato di desistere da qualsiasi appello e di permettere l'esecuzione della pena. Vuole velocizzare il procedimento perché per lui è più estenuante attendere la pena di morte che l'esecuzione stessa. Quindi ha deciso lui di velocizzare la sua condanna. La data per l'esecuzione era stata fissata per il 29 agosto del 2006 ma viene rimandata fino al primo luglio del 2007 a causa di un cavillo riguardo ai farmaci da utilizzare su Elijah. L'11 luglio del 2007 Elijah che in quel momento ha 25 anni viene giustiziato mediante iniezione letale nel penitenziario statale del sud Dakota. Durante l'esecuzione partecipa anche Dotti, quindi anche la mamma di Chester ha visto la fine di questo ragazzo. Prima di venire ucciso però Elijah ha scritto una lettera nella quale dice che i veri artefici dell'omicidio di Chester sono lui e Darrell. Praticamente questa lettera dice che quella sera il loro piano era semplicemente di derubare Chester e non era assolutamente nei loro piani ucciderlo ma poi le cose sono sfuggite di mano sentiamo spesso questa cosa hanno preso una piega drammaticamente diversa e quindi poi Chester è stato ucciso. Comunque con questa sua dichiarazione in pratica sta scagionando completamente Briley quindi dice che lui e Darrell sono quelli che hanno ucciso il ragazzo. Nel gennaio 2001 anche Briley si dichiara colpevole. Rinuncia al diritto di avere una giuria che determini la sua sentenza e il 19 gennaio del 2001 il giudice lo condanna alla pena capitale. Nel corso degli anni ha continuamente fatto degli appelli. Nel 2009 la Corte Suprema ha deciso di annullare la sua condanna a morte affermando che doveva essere una giuria a decidere del suo destino e successivamente la giuria ha deciso e non è stata molto clemente. Infatti nell'agosto del 2011 Briley viene condannato a morte. La sentenza viene confermata anche nel 2019. Al momento è l'unica persona nel braccio della morte nel Sud Dakota. Durante il processo Dotti viene avvicinata dalla mamma di Briley che in lacrime la supplica di perdonarla. Dotti risponde affermando che non può darle la colpa perché non è stata lei ad uccidere Chester e che le azioni di suo figlio non riflettono su di lei anche se io personalmente non condivido del tutto questa affermazione ma è solo la mia opinione. Le due donne si abbracciano e Dotti dice di non provare né rabbia né rancore né verso di lei né verso gli assassini di suo figlio aggiungendo anche che non riesce a spiegarsi il motivo per cui non prova non provi rancore per loro cioè perché non provi rabbia o odio nei loro confronti. Successivamente Dotti ha anche raccontato di aver visitato frequentemente il luogo in cui Chester è morto e durante queste visite era sempre accompagnata da qualcuno perché non si sentiva a suo agio ad affrontare quel posto da sola. In diverse occasioni ha compiuto dei gesti simbolici come ad esempio gettare delle rose nel torrente. Dotti ha anche detto di aver sentito la presenza di suo figlio in diverse occasioni. Ha praticamente sentito un rumore di passi alle sue spalle ma ovviamente girandosi non c'era nessuno e addirittura ha avvertito il tocco di una mano sulla spalla. Comunque questi tre uomini non avevano alcun motivo di uccidere Chester, avrebbero potuto semplicemente derubare la casa e lasciarlo in pace per cui io sinceramente non capisco il movente di questo assurdo crimine e mi piacerebbe sapere la vostra opinione in merito qui sotto nei commenti. Fatemi sapere la vostra opinione. Secondo voi quale può essere il movente di questo omicidio? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e io come sempre sono senza parole ma io voglio ringraziarvi specialmente se siete arrivati fino alla fine di questo video. Grazie per aver speso il vostro tempo a guardare appunto questo video su Chester e come sempre io vi mando il mio grande abbraccio virtuale e ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao!